Sant'Antonio è passato da qualche giorno ormai ed è partita finalmente la stagione dell'Alpeggio, con migliaia di capi di bestiame, malgari e casare che si sono trasferiti nelle terre alte per l'estate. Tradizione vuole infatti che per i primi giorni di giugno le malghe ritornino alla vita almeno fino a San Matteo e anche oltre se la stagione si rivelerà buona. Delle oltre 100 malghe presenti nei sette comuni dell'Altopiano, almeno 90 sono attive, quasi tutte con la produzione di formaggio e burro. Qualcuno ha deciso di portare le vacche al pascolo con i camion che per giorni hanno fatto la spola sul costo e sulla strada che passa per Conco. Molti altri, soprattutto chi ha le stale a poca distanza dagli Alpeggi, è salito, se così possiamo dire, a piedi, dando nuova vita alla tradizione antica della transumanza. Uomini, donne e animali rimarranno in altura finché l'ultimo sfalcio estivo lascerà posto all'erba più scarica, ai fiori meno profumati, ai primi freddi che annunciano l'autunno. Allora tutti torneranno al piano, nelle stalle, nelle case per sognare nel lungo inverno, i boschi dell'Altopiano, i suoi prati verdi e il cielo che pare dipinto sopra tutte le creature.